La miglior farm di legno per chi ha appena iniziato il mondo Andiamo Solo il 4% di voi iscritto Questa cosa è scandalosa Rimedia subito Iscriviti Iniziamo con i materiali Questo di cui avete bisogno Questi blocchi ovviamente potete sceglierli voi Sono a piacimento Due chess Due d'acqua Sei ladder Sei dirt Hopper E una slab Ora iniziamo a costruire la struttura Iniziamo mettendo 20 blocchi Tutti vicini Facendo una linea lunga Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 20 Ora andiamo da quest'altro lato E lo facciamo lo stesso ma di 17 blocchi 1, 2, 3, 16 e 17 E ora colleghiamo tutta la struttura Così Completato il quadrato facciamo una risorsa d'acqua infinita Così Così prenderete l'acqua che vi serve Andiamo sul lato più lungo Quindi questo qui E ovviamente attappate tutti i buchi che ci sono Perché se no poi l'acqua cade e non funziona Così E cominciate a piazzare l'acqua Partendo Prendete l'acqua qui Mettetela qui Prendete l'acqua qui Mettetela qui Ogni Un blocco sì Un blocco no Così si crea la fonte L'acqua Perfetto Ora scavate tutto Fino a dove arriva l'acqua Scavate tutto Qualsiasi blocco sia Scavate Comunque se sentite È un raffreddore Mamma mia Lasciate like E iscrivetevi per altre farm Che vi sto facendo La farm Con il raffreddore C'è avuto pure la febbre Questa qua è Determinazione Ora scavate qui sotto Così l'acqua Scende fino a giù E arriva Vino alla fine Ora bisogna trasportare gli oggetti Quindi da qui Spacchiamo Una parte E andiamo sotto Scavate tutto 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 Fino alla fine Perfetto Adesso piazziamo Un blocco d'acqua qui Che porta Fino a giù Scaviamo 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 Fino a dove porta Fino a qui Qui facciamo la zona di Collezione degli item Quindi praticamente Scaviamo un altro po' Così Manda ancora in avanti Perfetto Arriviamo qui Qui Ci mettiamo Le due chest L'hopper collegato Perfetto Così gli item Arriveranno qui E entreranno dentro le chest Come vedete Perfetto Facciamo una scalinata E saliamo su Ora trovate il centro Della farm Quindi contando Ripiazzate Questo Arr Piazzate il centro Fate Un pillar Così Fate Questa struttura Così riuscite a mettere I sapling qui Spaccate Questi Ma così riesce comunque A saltare Quindi Piazzate una ladder qui Oppure una qui Se volete Piazzate i sapling Potete aspettare che crescono Oppure usare il bone meal Però non ce n'è bisogno Crescerà questo Albero enorme Voi Lo spaccate tutto Usando questa tecnica Salite Facendo Tipo Una scala Vedete Facendo una scala Arrivate fino In cima E dopo scendendo Spaccate così Come se fosse una spirale Dopo cadranno Tutti i sapling E i stick Qui E andranno A finire Nella Chest Fate like Ed iscrivetevi Attivate la campanellina Per altre farm Questa è la farm Più veloce Per prendere Legno A inizio A inizio Gioco A inizio